Cosimo Giudice, direttore Ipercop Mondovicino, altri mille euro dati alla Caritas, un ulteriore gesto di solidarietà da parte vostra per il territorio? Sì, Ipercop è risaputo per la collaborazione che offre con le associazioni locali e con le Ollus in particolare. In questo caso la Caritas, con cui collaboriamo già con altri progetti, il progetto Buonfine, lo abbiamo ampliato anche e steso con la spesa sospesa, dove abbiamo donato comunque due tonnellate e mezzo di prodotti donati dai clienti naturalmente, non da Ipercop. E questo è un ulteriore gesto di solidarietà da parte di Cop di Guria alla Caritas locale di Mondovicino. Cop di Guria in sostanza ha devoluto l'equivalente in denaro dei prodotti che diamo in omaggio ai soci durante le assemblee separate di bilancio e le abbiamo appunto donate, i soci hanno voluto donarlo proprio alle associazioni locali, in questo caso alla Caritas di Mondovicino. Un cammino intrapreso che probabilmente non si fermerà qui? Beh no, assolutamente, diciamo che è iniziato già da molti anni e ci sono quasi margini ancora di miglioramento, proprio in questo periodo con Caritas a causa delle condizioni di disagio di molte famiglie, pensiamo di continuare a donare, pensiamo di continuare a collaborare con loro, con altri progetti sicuramente, per cui donano la spesa, che si ripete ogni anno, così come anche il progetto Bonfine, Pozzetto, insomma, diciamo che di progetti ne abbiamo tanti e continueremo a portare avanti. Grazie. 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 Grazie.